Qualche bicchiere di troppo l'invito ad accompagnarla a casa, poi il palpeggiamento è un approccio un po' spinto che ha causato alla giovane 16enne anche lievi lesioni. Deve rispondere di violenza sessuale. Un 17enne residente nel napoletano resosi protagonista del malattattamento di una giovane donna erpina che avrebbe subito abusi durante alcuni giorni di vacanza con la propria famiglia ad Acciaroli di Pollica. Sono stati i militari della Compagnia dei Carabinieri di Vallo della Lucania in collaborazione con quelli dell'arma di Torri Annunziata coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno a dare esecuzione il giorno prima di ferragosto ad una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 17enne residente nel napoletano. Il giovane deve rispondere di violenza sessuale commessa da Acciaroli nei confronti della 16enne erpina. Secondo gli accertamenti dei fatti degli investigatori, il minore tratti in arresto dopo una serata tra amici si era offerto di accompagnare la ragazza e approfittando dello stato di ebrezza della minore l'avrebbe costretta a subire palpeggiamenti cagionandole anche lievi lesioni. I fatti sono avvenuti in pieno centro abitato in un luogo in quel momento della sera non frequentato. La giovane era poi riuscita a fuggire ed a chiedere aiuto ad alcune amiche. Le indagini svolte dai militari dell'arma hanno portato all'individuazione dell'autore del gesto nel frattempo ritornato al proprio paese dove è stato rintracciato e sottoposto al provvedimento cautelare sollecitamente emesso dall'autorità giudiziaria minorile di Salerno che ne ha disposto il collocamento presso una comunità della provincia di Napoli.